Buonasera visualizzazioni e bentornate in questa nuova puntata di Sottobosco. Oggi voglio trattare insieme a voi un qualcosa che molto probabilmente non è così tanto conosciuto in Italia, tuttavia il suo livello di pesantezza è così esagerato da essere lontano addirittura da qualsiasi più malata fantasia. Sto parlando del filmato Snuff R37, un mixtape shock emerso su internet nel 2015 e reso popolare nel 2021 grazie a un post su Reddit contenente una mappa iceberg che menzionava questo film. Questa mappa ha ricevuto quasi 4000 upvotes e questo non ha fatto altro che incuriosire la gente e oggi siamo qui a parlarne. Vi avverto però, non è un qualcosa di facile innanzitutto di cui parlare perché si sta parlando non soltanto di CP, di contenuti espliciti di minori, ma di contenuti espliciti di minori morti. Quindi stiamo parlando di un qualcosa davvero agghiacciante, quindi vedete un po' voi se continuare o meno la visione di questo video. Prima di iniziare vi ricordo semplicemente che la felpa che indosso, quella di One Piece, è di Pampling. La trovate qui sotto in descrizione, nel loro sito avete felpe, calzini, tacquini come questo qui, di tutto. Utilizzando il codice sconto GEMATRIA, tutto quanto maiuscolo, otterrete uno sconto sull'intera spesa e ovviamente in questo periodo un paio di calze gratis per ogni maglietta presa. A questo punto però vediamo un attimo di addentrarci all'interno di questo argomento. Sarà bella tosta pubblicare questa cosa su YouTube, me ne rendo conto, ma ci proviamo. Questo video è rimasto perduto fino alla sua scoperta nel 2021. Delle voci su questo film circolano più o meno dal 2015, ma il video effettivo è diverso da ciò che alcune voci fanno credere. R37, o Snuff R37, infatti, non è il vero nome di questo file. All'inizio del video compare uno schermo nero con il testo Snuff R37 in alto e Necropedoria in basso, indicando che il nome del mixtape è Necropedoria e il nome dell'entità dietro di essa è Snuff R37. C'è veramente pochissima informazione riguardo sia questo video in sé che i suoi creatori. La principale pista sull'origine del video, secondo alcune oscure recensioni online e diversi post su Thread di discussione riguardo a questo video, spiega che è stato realizzato da un gruppo di circa 4-5 persone noti su 8chan. Per chi non sapesse che cos'è 8chan, faccio presto a spiegarmi. Avete presente 4chan e avete presente quanti problemi già causi un image board base? Ecco, moltiplicateli sempre di più, abbiamo trattato la cosa ovviamente in un altro video tempo fa, ma 8chan penso che sia stato uno dei posti con più orrori giustificati nel corso di internet, veramente, sta in top 20. Tutto questo comunque è successo nel 2015 e utilizzavano Clinton Taylor, un personaggio fittizio, chiamato così in onore di due killer, Harry Clinton, Newman e Paul Bernardo, come mascotte per il loro film. Quindi, giusto per iniziare a chiarirci da questo momento, ovviamente chi fa parte di questi ambienti, chi fa parte di queste image board, soprattutto nelle parti più tossiche di queste image board, non si fa scrupoli per qualsiasi cosa e tratta tutto quanto come se fosse non solo dovuto, quindi un suo diritto inviolabile a fare quello che vuole della vita degli altri, tutto quello che vuole. Ma nella maniera più fastidiosa possibile, quindi, posso io dare fastidio a qualcuno utilizzando come nick il nome di un server keep? Certo, lo faccio subito. Alcuni utenti che conoscono queste persone affermano che il gruppo Snuffer37 ha realizzato altri shockumentary insieme a questo qui e li ha condivisi tramite delle darknet. Molti membri del subreddit Mondogore dicono, si dice, che questi qui si siano sciolti tempo fa e che nessuno di questi membri desideri essere ricontattato in merito alla pubblicazione e alla creazione di questi video. Cioè, facile, capito? Fai lo schifo. Poi quando si tratta un attimo di capire chi è stato così, no, no, a me non interessa essere contattato, figuriamoci. Come se fosse, non so, un call center che ti chiama quando hai letteralmente prodotto questa roba. Parlando del film in sé, è una compilation di 10 minuti e 55 secondi di estremi atti di violenza medica della guerra civile siriana che coinvolgono bambini e neonati con immagini di una telecamera di sicurezza che mostra un uomo che calpesta un bambino e immagini simili. È ovviamente terribile la visione di questa roba, penso che sia un reato federale, ma non è soltanto questo. Il fatto è che prima del ritrovamento effettivo di questo filmato, si pensava che R73 fosse un filmato nel quale un bambino veniva siliziato. Addirittura tutto questo era stato ricondotto a Luca Magnotta, quello del documentario di Netflix, Giulio Magli dei Gatti, no? Che sarebbe il creatore di One Lunatic, One Icepeak. È un video del quale abbiamo già parlato, facciamo che non lo ritrattiamo oggi. Si dice anche che esista un sito francese che ti spieghi quanto nel dettaglio sia orribile questo video, però non si trova, quindi il fatto è che attorno a questo video ci sono tantissime voci, tantissime leggende di internet, se vogliamo, e tutto questo non fa altro che aumentare la fama pessima che questo filmato ha. Questo sito confermerebbe due versioni del film, una di 3 ore e 30 minuti e una di 1 ora e 10 minuti, entrambe provenienti dal dark web. La realtà dei fatti però è molto, molto diversa, ragazzi, perché oltre a non essere mai stata confermata l'esistenza di questo R73, è stata confermata invece l'esistenza di un R73-2. È un qualcosa di molto atipico per quanto riguarda questi video, però effettivamente sì. In questo Snuff R73-2, successore del primo e realizzato presumibilmente dello stesso gruppo, abbiamo sempre un mixtape che dovrebbe durare circa 90 minuti e solo due persone sono conosciute per averla vista. Una di esse è Thomas Cinemagor, creatore di MD Pop. L'altra è Cinema Sanderbelli, uno youtuber che l'ho praticamente sputtato. Secondo entrambi, tuttavia, a parte che non bisognerebbe mai andare in cerca di questi video, ma secondo entrambi, quello che è contenuto all'interno di questi mixtape è tutta quanta una serie di video montati, un po' come se fossero sempre una compilation, di gente che si toglie la vita, gente che la toglie ad altri, insomma, il classico. Parlando un attimo del fatto che questo video possa esistere come no, in realtà non è che ci cambi poi così tanto, semplicemente perché un sacco di gente su internet ha cominciato ad addossare a questo video in particolare la colpa del fatto che esista gente che effettivamente ha prodotto della necropiografia. Vi basti semplicemente pensare a Peter Scully, a tutto quello che ha fatto, il creatore di Days of Destruction, si intende. Vi basti pensare a tutte queste cose qui e capirete già da subito che non è un qualcosa nato né oggi né ieri, è un qualcosa che purtroppo esiste da tantissimo tempo. È un qualcosa di terribile, ovviamente, ma è anche un qualcosa che, raga, non è nato con internet, non è nato con questo mixtape, sempre dando per scontato che questo mixtape esista. R73, fermo e considerato, il fatto che non sappiamo certamente se esiste o meno, ma anche se esistesse, sarebbe la causa di tutto questo schifo che circola su internet. Sempre parlando di questa cosa qui, in realtà avrei anche una notizia a darvi che arriva da ieri sera. Voi questo video lo vedrete, il 4 lo vedrete giovedì, ecco, ieri sera, mercoledì, cosa è successo? Vi ricordate che nel primo video dell'anno abbiamo parlato sempre di un qualcosa che in realtà si collega all'argomento di oggi? Non ve l'avrei detto altrimenti, ma è successo che Barnet Show è stato bannato da YouTube. Chi è Barnet Show? Barnet Show è, o perlomeno era, questo YouTuber che vi ho fatto vedere l'altro giorno, una puntata di Sottobosco, che sostanzialmente ha cominciato a fare delle reaction di video shock, ma non come ve le porto io qui sul canale, quindi raccontandovi tutta la storia e tutto quanto. No, si mette là davanti e fa che schifo così qua. Ecco, l'ho fatto con Daisy Destruction o perlomeno. Ha detto di averlo fatto con Daisy Destruction, adesso noi non sappiamo se sia veramente, però da quello che è l'audio, da quello che è anche il riflesso un attimino, pare di sì, altrimenti non sarebbe mai stato bannato, perché di troll su YouTube ne esistono da tantissimo tempo, di gente che fa finta che sia da tantissimo tempo e non è mai stata bannata. Se c'è stata un bannata pluripiattaforme, insomma, qualcosina mi verrebbe in mente, ma non è solo questo. Vi avrei fatto un video a parte, ragazzi, se avessi avuto la conferma di queste cose, ma ci sono soltanto delle voci che circolano, perché per quanto riguarda questi canali è sempre così, quindi considerate che io vi sto riportando semplicemente quelle che sono le motivazioni che pare abbiano spinto YouTube a bannare questo canale. Poi io non le so al 100%, non sono stato di abbannarlo, ovviamente, anche se mi sono augurato la cosa dal primo momento in cui ho visto questa roba qua. Ma se non ho capito male, e spero sinceramente di aver capito male, questo tizio è stato pescato non solo a diffondere contenuti espliciti di minori su Discord, così, non ho capito se è sottopagamento oppure no, questa cosa non la so e preferisco in realtà non saperla. Ma c'è anche una voce che sta girando per vari forum e spero vivamente che sia infondata, che questo tizio abbia messo in cinta una quindicenne. Veramente. Ragazzi, c'è veramente qualcosa che non va, però sempre fermo restando che mi auguro che non sia successo veramente. La cosa non mi sorprenderebbe perché un tizio che si mette lì a fare questa roba in questa maniera così sfacciata, così arrogante e soprattutto così disturbata, cioè, nello stesso account, cioè lui che mette Desi Destruction e si mette la maschera in faccia a fare cose e poi lui con maggio la ragazza, non lo so, comunque, ah, che bene la famiglia, cioè, capito? Però questo qui è anche il classico streamer di cui non gliene fotte un cazzo di niente di nessuno, quindi ragazzi, c'era anche questo aggiornamento da fare e pensavo che fosse il video più opportuno, cioè, qualcosa all'orecchio che mi dà fastidio oggi, non so perché mi fa malissimo. Comunque sia, ragazzi, questo è quanto. Fatemi sapere se conoscevate già questa storia di R73, fatemi ovviamente sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e per il resto penso che per oggi possiamo anche chiuderla qui. Io vi ringrazio di essere stati qui con me anche oggi, qui sotto in descrizione tra ragazzi trovate tutto ciò che può servirvi, tra cui il link di Pampling per risparmiare sulle maglie, Instagram, TikTok e tutto il resto delle cose che possono servirvi. Sì, siamo tornati su TikTok, su Instagram e su tutto il resto. Detto questo, grazie a tutti e noi ci vediamo alla prossima. e noi ci vediamo